A questo punto immetto nel materiale giuridico possesso dei beni sopradescritti il comune di Praia Mare per il tramite del sindaco protempore, signor Pratico Antonio, con intimazione a parte esecutata di non farvi più rientro e a chiunque non turbare il possesso costituito. Consigliata la delimitazione delle aree e la messa in sicurezza delle casupole e le strutture rilasciate, oltre alla bonifica delle aree è considerato che sono state trovate carcasse di arrei di macchine ed elettrodomestici, in evidente stato di rottamazione. Ecco il primo di tanti passi, con queste parole il sindaco di Praia Mare Antonio Pratico ha commentato l'immissione in possesso nel patrimonio comunale delle proprietà dell'ex società Isola di Dino SRL. La procedura è stata espletata alla presenza del funzionario giudiziario del Tribunale di Paola, Maria Maddalena, del comandante della locale stazione dei carabinieri Massimo Maniaci, del comandante della polizia locale Antonio Izzo, dell'amministrazione comunale, del responsabile dell'ufficio tecnico di Praia Mare e dei legali dell'ente. In mattinata il sindaco Antonio Pratico ha ricevuto anche gli auguri del presidente della regione Calabria Mario Oliverio, al quale abbiamo chiesto se sarà al fianco del primo cittadino nella valorizzazione del sito. La sua risposta è stata assolutamente sì, non ci sono dubbi. Dobbiamo sostenere quanto fatto dal primo cittadino, ha detto Oliverio, il quale ha creduto fin dall'inizio di poter arrivare a questo risultato. L'isoladino è patrimonio di Praia Mare, ma soprattutto della Calabria, e quindi lavoreremo sinergicamente. Si chiude una battaglia iniziata nel 1989, ben 26 anni fa. In quella data abbiamo avuto il coraggio di dichiarare falsi i contoni ed elizi presentati sull'isola di Dino, e poi è incominciata tutta l'azione giudiziaria, che ci ha visto sempre vincitori, mai socconventi. E allora siamo arrivati a questa giornata. Beh, per me che ho lottato almeno 24-25 anni, insieme ai miei del passato e di quelli di oggi, per arrivare a questo obiettivo, io ritengo che è una grande giornata per me e per tutta Praia e per tutte le amministrazioni che sono state insieme a me in questi anni. Adesso il problema lo abbiamo noi in mano. L'isola non è un giocattolo. L'isola deve partire uno sviluppo, ma un vero sviluppo di crescita per il paese, per i giovani che avanzano. Noi dobbiamo lasciare un qualcosa ai nostri giovani, un qualcosa che resta. Ecco, Sindaco, come diceva lei, ci sono tante aree da bonificare, da mettere in sicurezza da quando comincerete? Guarda, fare la bonifica dell'isola non è un problema che da solo l'amministrazione comunale Praia potrà riuscirci. Tant'è che già nella giornata di ieri ho avuto contatti con il Presidente della Regione, dove ha sposato già il nostro problema, non perché è Praia, perché l'isola è della Calabria e di tutti i cittadini calabresi, e la Calabria può avere una spinda innovativa dall'isola e segnare un grande progresso, perché l'isola deve integrarsi con Reggio, con tutte le città della Regione Calabria e mettere insieme tutte le bellezze che ci sono e fare un unicum e fare degli itinerari che possano portare occupazione. Certo, non bisogna dimenticare che nell'ottobre 2014 gli imprenditori hanno presentato ricorso alla Corte di Appello di Catanzaro sull'isola Dino, quindi non si può fare punto e a capo. Per il momento si inizia a lavorare con tutte le benedizioni del caso, visto che alla lunga giornata del 22 agosto ha preso parte il parroco della Chiesa Sacro Cuore di Praia Mare, Don Franco Lipo Orace, che ha affidato il sito alla protezione della Madonna della Grotta. Quello che abbiamo documentato noi è un sito che merita attenzione, dove abitano natura incontaminata e degrade edilizio. Ora la parola passa all'amministrazione comunale. Per il momento l'isola torna nelle mani dei praiesi, come detto, con tutte le benedizioni. Grazie. 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 Grazie.